Un allenatore sul rendimento di una squadra di calcio incide fino al 25%, questo è il tetto della percentuale fissato dagli esperti della materia pallonaria, nel caso del Foggia però la percentuale di incidenza del tecnico è stata polverizzata, Fabio Gallo l'ha portata al massimo, trasformando una squadra di rammolliti, storditi e traballanti, oggi il Foggia è un'altra squadra, eppure i calciatori sono gli stessi, Gallo ha fatto un lavoro straordinario e da una decina di giorni ne sta facendo un altro tale quale, la squadra scende in campo dimenticando che il Presidente è chiuso a casa, anche qui Gallo è stato bravo ad impermeabilizzare il gruppo dalla vicenda giudiziaria che ha coinvolto e colpito chi garantisce soprattutto la tranquillità finanziaria. Non è un aspetto di poco conto, rivedendo la storia e gli effetti conseguenziali dei Presidenti indacati. Anche in questo caso l'impermeabilizzazione potrebbe cedere però, il rischio delle infiltrazioni c'è, quanto può reggere una squadra senza guida e sicurezza finanziaria? Oltre Gallo il rischio dovrà scongiurarlo chi l'ha procurato. Canonico ai giudici l'altro giorno ha detto che lui è completamente estraneo ai fatti contestati, è fiducioso per la revoca della misura cautelare, ma appena metterà i piedi fuori casa per scongiurare il rischio, rasserenare la piazza, giustamente preoccupata, dovrà venire a Foggia per pagare tutto quello che c'è da pagare. E tra stipendi, accalciatori, dipendenti e tesserati, fornitori, tasse e previdenza, non è come pagare un caffè al bar, dovrà onorare gli impegni con un bel mucchio di quattrini. Sarà il primo segnale che farà capire se il tempo di Canonico è finito, sta per finire o è appena cominciato. Tutto poi a verificare la conflittualità con gli altri due soci, ma questa è una partita che si gioca nella giungla della giurisprudenza nelle aule dei tribunali. Grazie per la visione!